Dammi piccioli, dammi piccioli ti dissi. Un commerciante trentenne GS, queste le sue iniziali di agrigento, è stato sorpreso da due balordi, con in mano una spranga di ferro e con il volto parzialmente coperto dal cappuccio della felpe in via Mazzini. Aveva appena calato la saracinesca della sua attività lavorativa, una sala giochi di fontanelle. Era l'una circa della notte, fra giovedì e ieri. Il trentenne agrigentino, appena visto sbucare fuori dalla vegetazione i due che non hanno perso tempo a fare la richiesta, ha tentato la fuga e alluncando il passo ha urtato contro uno dei due delinquenti che è finito sul selciato. Volevo forse raggiungere la propria autovettura, l'agrigentino, e mettersi in salvo. È stato però raggiunto e colpito con la spranga di ferro, almeno un paio di volte alla testa, mentre era sull'asfalto, dopo che i criminali lo avevano violentamente colpito, il commerciante è stato perquisito. Avevano chiesto e poi cercato i soldi i due rapinatori. Non hanno però trovato niente e a mani vuote i due malviventi si sono dileguati. Pare che inizialmente si siano allontanati a piedi. Non è naturalmente escluso che a poca distanza avessero lasciato un ciclomotore o un'autovettura. Il trentenne agrigentino è stato soccorso e portato all'ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici gli hanno dato quattro punti di sutura sulla testa e dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari necessari. Una decina, almeno i giorni di prognosi, che gli sono stati diagnosticati. Della terribile tentata rapina dopo un primo intervento dei poliziotti della sezione volanti si sta occupando adesso la squadra mobile della questura di Agrigento. Gli agenti hanno già sentito la vittima e sono al lavoro per tentare di acquisire quanti più filmati possibili dalle camere di videosorveglianze poste in via Mazzini e nelle zone immediatamente adiacenti.